Ma non è finita, la Juventus trova d'incanto la grinta che l'era mancata per un'ora e continua a sperare grazie a Brio. Sul gol dello stopper i romanisti reclamano il fuorigioco di Platini. A chi le chiedeva dei commenti sul gol di Brio, domenica, lei ha risposto che voleva vedere prima la Moviola. Nella Moviola la posizione di Platini. L'ha vista la Moviola? Fuorigioco. Fuorigioco? Perfetto, sicurissimo. Sicuro? 100%. Quindi l'arbitro si è sbagliato? Guadalini forse. Il suo presidente Viola oggi ha dichiarato al Corriere dello Sport che per la Juve c'è sempre qualche centimetro in più. Quindi lei è d'accordo? Sì, sono d'accordo. Quindi lei in questi tre anni che è stato in Italia non ha avuto la sensazione che gli arbitri in qualche modo abbiano aiutato la Juventus? Io sono tre anni qui in Italia e ho visto due sbagli, cioè il gol di Turoni e questo gol di Brio. Due sbagli particolari però? Due sbagli particolari che potrebbero decidere il campionato. Grazie. Grazie.